amici di week web benvenuti a questa nuova puntata ancora una volta e partiamo dal web parlare del meglio della settimana in italia nel mondo e ovviamente anche in calabria con i nostri consueti servizi iniziamo appunto dal dal mondo non solo dall'italia perché una settimana importanza di una settimana giornata importante per cuba e andiamo sulle pagine di corriere punto it il sito inter del corriere della sera e miguel diez canel il nuovo presidente cubano questa è la notizia che apprendiamo appunto dalle pagine del corriere e punto it nello specifico corriere tv il nuovo presidente ha 58 anni è un ingegnere elettronico è il primo presidente a non portare il cognome castro ed è nato dopo la rivoluzione questo lo sottolinea il corriere della sera sempre la corriere punto it ma altra notizia decisamente diversa che riguarda anche l'italia marica branchesi tra le 100 persone più influenti al mondo secondo il time l'astrofisica italiana ha già segnalato la rivista nature è nota per aver ascoltato le onde gravitazionali ed è l'unica italiana della prestigiosa graduatoria dunque una notizia questa positiva per l'italia invece adesso c'è un'altra davvero molto molto brutta dobbiamo dire sempre dalla corriere si parla qui dei famosi bulli stoppiamo chiaramente il video non andiamo a riproporre lucca bulli contro il prof nel nuovo video testate insulti altri firmati girati sul web mostrano l'umiliazione da parte di altri ragazzi fra le risate dei compagni di classe questo è un qualcosa davvero preoccupante un fenomeno sul quale occorrebbe intervenire in maniera decisa e ferma e ma noi cambiamo argomento e parliamo di un'altra brutta pagina possiamo dire sotto certi aspetti di mafia stavo per dire andrangheta ma dobbiamo parlare di mafia trapani scoperta la rete di messina denaro 21 fermi in manette due cognate super latitante ricordiamo mattia messina denaro che il latitante il numero uno è tanto numero uno in italia maxi blitz dei carabinieri polizia e dia individuata la catena di smistamento dei pizzini la cosca finanziata con le scommesse online il boss di marsala dice si trova nelle zone nostre di lui dicono matteo e come padre pio addirittura è ancora fatto bene a sciogliere nell'acido il ragazzino ipm rischio di guerra di mafia in provincia di trapani ma noi abbandoniamo la pagina nazionale abbiamo visto la pagina internazionale la pagina nazionale per andare in casa nostra andiamo a vedere quello che è successo nelle ultime gli ultimi giorni alla regione calabria perché dopo e dopo tante chiacchiere dopo tante discussioni è arrivato il rimpasto di giunta con l'inserimento di tre nuovi assessori nel prossimo servizio andiamo a a scoprire chi sono si è svolta nella sede della cittadella a catanzaro la riunione di insediamento della nuova giunta regionale presieduta dal governatore mario oliverio il nuovo esecutivo composto da francesco russo assessore alla logistica al sistema portuale al sistema gioia tauro nominato anche vicepresidente con la giunta delle deleghe allo sviluppo economico e alle attività produttive antonella rizzo assessore alla tutela dell'ambiente franco rossi assessore alla pianificazione territoriale ed urbanistica roberto musmanno assessore alle infrastrutture si completa con la nomina di maria teresa fragomeni assessore al bilancio programmazione economiche finanziarie e politiche del personale angela robe delegata al lavoro formazione politiche sociali e maria francesca corigliano assessore ai beni culturali e all'istruzione ognuna di loro non è una donna inventata è espressione appunto di un sistema di 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 conoscenze e che è importante di esperienze anche che sono sono importanti e che sicuramente nel campo che io gli ho affidato di lavorare attraverso le deleghe sapranno dare l'impulso giusto l'attenzione giusta e il lavoro concreto necessario per realizzare gli obiettivi che ci siamo posti e restiamo in tema perché parliamo ancora la nuova giunta regionale ma questa volta non lo facciamo attraverso l'annuncio dei nuovi elementi di giunta ma la facciamo commentando la giunta i nuovi ingressi cosa dovranno fare il loro operato e abbiamo dato l'inconvenza al segretario generale della cisl calabria paolo tramonti il terremoto elettorale dello scorso 4 marzo ha avuto ripercussioni anche a livello regionale con alcuni parlamentari eletti che hanno lasciato il loro incarico e altre accompagnate la porta in modo più o meno burrascuso e così mario livello è stato costretto a mettere in mano al suo esecutivo per portare avanti la legislatura fino a scadenza naturale sebbene qualcuno ipotizzi che abbia almeno sei mesi in più vista l'eventualità di unificare tutte le scadenze delle regionali la primavera 2020 e così finalmente dopo settimane la montagna ha partorito il topolino con tre nuovi assessori donne in tre punti chiave noi abbiamo chiesto a paolo tramonti segretario regionale della cgl che cosa ne pensa diciamo che ovviamente è importante aver definito i nuovi essetti di giunta i nuovi essetti istituzionali relativamente al governo regionale ovviamente al di là dei nomi che noi rispettiamo tutti ci baseremo il nostro giudizio come al solito sulle azioni concrete che questa nuova giunta vorrà mettere in atto noi riteniamo che ormai è arrivato il momento in calabria di abbandonare diciamo le teorie e andare sulle cose concrete e per quanto ci riguarda le cose concrete sono devono essere caratterizzate per quest'ultimo scorcio di consigliatura regionale da un'intesa forte tra tutti i soggetti del partenariato economico e sociale insieme al governo regionale sui temi del lavoro della crescita e dello sviluppo del sociale e della legalità noi su questo siamo fortemente disponibili crediamo che non ci sia più tempo da perdere per la definizione di un piano strutturale organico del lavoro e per l'occupazione legato agli investimenti un piano per il lavoro che guardi alla nuova occupazione alla stabilizzazione del precariato e alla contrasto al lavoro nero e sommerso e alla ricollocazione attraverso anche percorsi formativi dei tanti lavoratori che in questi anni sono stati espulsi dal circuito produttivo che finora sono stati collocati nel sistema degli ammortizzatori sociali soprattutto quelli in deroga e che oggi per la gran parte sono privi di qualsiasi copertura sociale quindi riteniamo che su questo diciamo là il governo regionale debba veramente caratterizzare l'appropriazione per quanto ci riguarda siamo disponibili e crediamo che sia arrivato il momento che in Calabria si metta mano ad un'intesa complessivo ovviamente nel rispetto dei reciproci ruoli e delle proprie autonomie ma sia arrivato il momento di mettere in campo un'intesa forte perché solo così possiamo traguardare questo perenne momento di difficoltà che continua a vivere la Calabria. Per fare tutto questo basterà il poco tempo di qua alla fine della legislatura? Diciamo che la Calabria oggi ha anche delle grandi opportunità io penso al POR Calabria alla PSR piano di sviluppo rurale al patto per la Calabria al patto per l'area metropolitana di Reggio Calabria che mettono in campo a favore della nostra regione da qui al 2020 risorse importanti quindi noi riteniamo che ci sono le condizioni da qui al 2020 per mettere in campo appunto un'azione organica che possa dare risposte sui temi nevralgici della nostra regione. Non è stato nominato ma è stato eletto il nuovo presidente della provincia di Crotone si tratta di Ugo Pugliese che è il sindaco della città pitagorica e andiamo a vedere il prossimo servizio che parla dell'elezione di Ugo Pugliese che era anche tra l'altro unico candidato. Il sindaco di Crotone Ugo Pugliese è stato eletto con elezioni di secondo livello presidente della provincia di Crotone con 126 schede valide, 6 le bianche e 2 le nulle su 288 aventi diritto. Quella del sindaco di Crotone eletto a capo di una lista civica di aria di centrodestra era una candidatura unica che aveva ricevuto anche l'appoggio del Partito Democratico Provinciale. Le elezioni si sono rese necessarie dopo il coinvolgimento dell'ex presidente dell'ente intermedio Nicodemo Parrilla nell'operazione Stige dello scorso gennaio sulle cosche di Indrangheta del Crotonese. È un impegno gravoso e difficile quello che mi viene conferito, ha affermato Pugliese subito dopo l'elezione. Istituzionalmente non me la sono sentita di dire di no a tutti coloro che mi hanno indicato e che ringrazio. L'ho fatto perché bisogna rilanciare questa provincia pensando all'ente come un'aria vasta dalla quale partire per migliorare l'intero territorio, partendo dalle infrastrutture e dallo sviluppo della mobilità e per le qualità bisogna avviare un'interlocuzione più forte con la Regione. Parliamo adesso di realtà produttive perché è stata una settimana importante e per l'Italia e per il mondo intero, il settore enologico e non solo, è per la Calabria. La Calabria che ha preso parte in maniera massiccia al Vinitaly di Verona, una delle principali manifestazioni nel panorama enologico, ma direi anche al gastronomico mondiale. La Calabria c'è da dire che si è molto molto ben comportata. Nel prossimo servizio andiamo a vedere quello che è il bilancio della Calabria al Vinitaly. La 52esima edizione del Vinitaly di Verona si è chiusa ed è già tempo di bilanci. Per la Calabria i numeri parlano di oltre 25.000 visitatori in 4 giorni, 1.200 incontri fra produttori e buyer italiani e stranieri, 7 degustazioni di vini e due di prodotti tipici, 6 show cooking e un laboratorio sull'olio. Tirando le somme dunque non può che essere soddisfatta la Regione Calabria che abbia infigurato a quella che viene considerata da tutti una delle più grandi kermesse a livello mondiale dedicata al vino, ma anche grazie a sole agri-food, all'olio e più in generale ai prodotti agricoli agroalimentari. La Calabria da qualche anno presenta tutte le sue aziende nello stesso spazio. Quest'anno il numero di visitatori che hanno deciso di far visita ai produttori calabresi è aumentato di circa il 30%. Dunque Arsache e Regione Calabria possono essere soddisfatte per questa crescita resa possibile anche dall'organizzazione di alcuni eventi che hanno portato nell'area Calabria anche personaggi noti come Joe Bastianich, ma anche di altri strettamente legati al vino, ma non solo, nel corso dei quali è stato possibile degustare prodotti tipici calabresi. Dunque Calel si pare sull'edizione 2018, ma lo sguardo è già proiettato alla prossima, la 53esima, che si spera possa essere caratterizzata da un'ulteriore crescita. Ne abbiamo parlato nelle nostre edizioni del Tg, tanti gli appuntamenti sempre restando in tema Vinitali alla Kermesse veronese. Fra queste un appuntamento molto importante ha visto Joe Bastianich, il famoso chef Joe Bastianich, allo stand Calabria promuovere in qualche modo anche i prodotti calabresi. Una vetrina di livello internazionale come il Vinitali di Verona non può non far gola ai produttori calabresi. Ed è una Calabria protagonista quella che si mette in mostra nel Capologo Veneto, ovviamente grazie alle sue eccellenze e alla sua tradizione. Si è lavorato bene, soprattutto si è lavorato in armonia istituzionale con i consorsi di tutela della Regione Calabria. Sono due consorsi di tutela, uno Terri di Cosenza e l'altro di Ciro. abbiamo avviato tre anni fa un percorso che era quello di portare allo stand della Regione Calabria il maggior numero di produttori di vinicoli calabresi e ci stiamo riuscendo. A testimonianza di questo percorso, di questo nostro obiettivo, oggi c'è un testimonio un testimonio di eccellenza qui al Vinitali che è Gio Bastianici, conosciuto in tutto il mondo per fare, per la promozione del mangiare del cibo sano e buono. Il bello, l'interessante di essere americano, italo-americano, la realtà calabrese in America è fortissima. Mi sento che tutti italo-americani, tantissimo, anche la parte di mia moglie, sono italo-americani che sono partiti dalla Calabria tanti anni fa. Recentemente ho avuto l'opportunità di andare a Reggio Calabria, visitare, stare lì e quando vai lì capisci veramente la porta dell'Italia che va al Mediterraneo, al Middle East, all'Africa. È molto bello, come ho detto prima, la Calabria è la fortuna che le persone, i sapori parlano del posto. Chiudiamo con lo sport, precisamente con il calcio, perché la settimana che è appena trascorsa, che si sta concludendo, è stata una settimana importante per il Crotone. Crotone che nel turno infrasettimanale è riuscito a strappare un punto assolutamente inatteso alla Juventus. La Juve non è andata oltre l'1-1, lo vediamo anche su Sport Mediaset. Serie A, Crotone-Juve 1-1, al di là della lotta a Scudetto, il Napo adesso è a meno 4, qui si parla all'uscita passo falso dei bianconeri, Simi segna al Ronaldo con un'incredibile rovesciata che richiama quella realizzata dal giocatore del Real Madrid proprio contro la Juventus. Ma la situazione del Crotone sicuramente è una situazione che resta difficile e si dovrà lottare in queste ultime 5 giornate. Un risultato storico, ma potrebbe anche non essere sufficiente, è quello ottenuto dal Crotone che all'uscita ha ottenuto il primo punto della sua storia contro la Juventus dopo 5 gare terminate tutte con una sconfitta. È servita una prodezza di Simi che ha emulato la gesta di Cristiano Ronaldo. Evidentemente i colli rovesciata sono indigesti, la difesa bianconera è stato proprio il nigeriano, giocatore spesso discusso, a firmare la rete storica per il Crotone che permette alla formazione di Zenga di mantenere immutate le distanze con le squadre che in classifica precedono i calabresi. Con il Benevento praticamente in Serie B, il Crotone dovrà lottare con il Verona, la Spal e il Chievo. Difficile coinvolgerne alla bagarre anche il Sassuolo, ma la vera sfida il Crotone la giocherà contro se stesso. Le prossime tre partite saranno a dir poco decisive, prima in trasferta contro l'Udinese, poi in casa contro il Sassuolo, poi a Verona contro il Chievo. Da qui passa la salvezza della formazione Rosso-Blu, soprattutto se si considera lo spessore degli avversari nelle ultime due giornate. Nella penultima all'uscita arriverà la Lazio, poi si andrà al San Paolo contro il Napoli. In palio potrebbero esserci punti Champions e Scudetto, ma nel dubbio chiudere il contro nelle prossime tre partite sarebbe decisamente consigliabile. Bene, è tutto per questa puntata di Week Web. Grazie come sempre per la cortese e attenzione. L'appuntamento torna sabato prossimo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.